Dopo l'oro italiano alle Olimpiadi della Fisica tenutesi a Senigalia nel mese di aprile, Mattia Rundine, studente agropolese, porta a casa il bronzo durante le Olimpiadi Europee della Fisica a Riga, in Lettonia. 35 gli stati partecipanti e Mattia è l'unico ragazzo italiano del sud Italia che partecipa a questo grande evento dedicato alla fisica. Mattia Rundine non è nuovo a queste vittorie, infatti si è aggiudicato negli scorsi anni diversi premi, tra cui anche il premio Caglianiello, segnalato dal MIUR come eccellenza italiana, ha raggiunto quest'anno un traguardo importante. Eccellenza del territorio e orgoglio dell'Istituto Alfonso Gatto di Agropoli, Mattia continua a fare incetta di medaglie e riconoscimenti portando sempre più in alto il nome della città di Agropoli.